È la prima volta che tutte le comunità del Lazio si sono ritrovate insieme, per la prima volta, no? E questo è molto bello perché abbiamo bisogno di stringersi insieme perché in comunità si lavora per un recupero integrale della persona, da quello fisico a quello psichico, a quello interiore, a quello relazionale. Li si aiuta a ripercorrere un po' criticamente la propria storia e cercare di vedere ciò che è stato a causa del loro disagio, del loro malessere e come oggi anche riuscire a vedere che cos'è che le aiuta a stare bene insieme. Certamente gli aspetti educativi sono fondamentali e questo che forse dovremmo riportare all'interno delle famiglie, all'interno di tutti quelli che si occupano degli aspetti educativi, come le scuole, come le associazioni, ma la società stessa deve essere orientativa verso i grandi valori che ci rendono più umani, più solidali gli uni per gli altri. Beh, che dei ragazzi di diverse comunità si sono ritrovati insieme e, ripeto, per la prima volta qui a Trivigliano, beh, è un segno bello di speranza.